ciao a tutti ciao a tutti nuovo video sono uguale al video precedente del giveaway perché ovviamente lo sto girando in contemporanea perché appunto domani parto e quindi per un po' non avrò linee né niente quindi ci tenevo a fare il video sulle letture del mese di settembre perché nel mese di settembre ho letto veramente ho letto un po' e ho letto anche delle graphic novel molto belle che però non ho mie mani perché le ho prestate qui quindi vi metterò praticamente la foto e nel mese di settembre io ho letto come graphic novel Cobane Calling che come sapete è una delle graphic novel più belle che io abbia mai letto e comunque ne leggo parecchi di graphic novel e ne ho parlato praticamente nel video in cui vi parlo e vi consigliavo i libri, le graphic novel da acquistare edite dalla BAO, dalla BAO Publishing e quindi vi linkerò qua sopra i vari video relativi appunto a Cobane che conta più o meno 200 pagine e un diciamo un diario a fumetto del viaggio di Zero Calcare in Siria comunque ne ho parlato ampiamente in quel video ho letto nel mese di settembre Nimona che è stata un'altra graphic novel diciamo stupenda ne ho fatto una recensione sotto, vi linko appunto sotto anche un blog in cui appunto recensisco i vari libri o graphic novel che leggo, Nimona è praticamente un gelino, non è bello quanto Cobane ma perché trattano due argomenti differenti, uno è un argomento molto più diciamo complesso rispetto a quello di Nimona, non per questo Nimona comunque non è da leggere un'altra graphic novel che ho letto nel settembre che ho prestato è appunto A Real Life vi ho detto come a me è piaciuto comunque come graphic novel nonostante il prezzo sia un po' troppo alto secondo me per una graphic novel che forse non è del tutto completa quindi rispetto a Nimona di Noelle Stevenson oppure rispetto a un Cobane Calling A Real Life è nettamente diciamo inferiore, non per questo però non è bello è bello e parla praticamente di come internet possa essere utilizzata come una risorsa per quanto riguarda le comunicazioni, per quanto riguarda la velocità con cui si possono trasmettere informazioni e così via poi per quanto riguarda i libri, allora ne ho letti, mi pare 5 o 6 ne ho letti 6, allora i primi due sono, ne ho fatti anche qua un video dove li ho analizzati attentamente ho fatto anche appunto una recensione sul blog ed è La Vendetta del Diavolo di Joil questo libro mi ha un po' deluso non tanto per la storia in sé perché era una storia molto carina ma mi ha deluso più che altro come ho detto nel video precedente per i vari sbalzi temporali le questioni logico-cronologiche che non si capiscono bene all'interno della storia e quindi questo mi ha parecchio destabilizzata e confusa per quanto riguarda la storia comunque ve ne parlo meglio in un video parte che vi linko sempre sopra dove vi parlo sia di Joil che di Neil Gaiman infatti appunto ho letto, subito dopo Joil ho letto Neverwerdy, Neil Gaiman che è una sorta di Alice nel Paese della Meraviglia molto più dark e creepy comunque ne ho parlato anche questo in modo accurato nel video che vi ho linkato sopra nella scheda e ve ne parlo anche nella recensione sul mio blog se volete appunto leggerlo è presente anche in italiano con il nome di Nessun Dove ed è presente anche una graphic novel appunto intitolata con il titolo Nessun Dove mi pare che sia sempre della Vertigo poi ho letto Messenger of Fear anche questo in lingua ve ne ho parlato ampiamente nell'ultimo video che vi linko sempre sopra questo libro è stata una piacevole scoperta perché come vi ho detto non vi parla di horror ma è appunto un romanzo che tratta di bullismo in maniera diversa dove pone una figura superiore ad altro, una figura sovrannaturale il messaggero della paura che si pone sostanzialmente come giustiziere laddove la legge o le istituzioni o le forze dell'ordine non riescono a intervenire interviene il giustiziere è molto carino come libro nonostante appunto l'unica pecca sia il fatto come ho ripetuto più volte che è corto ed essendo corto non riesce a trattare in maniera diciamo più approfondita l'argomento relativo al tema bullismo ho finito il trono di spade di George Martin appunto il dodicesimo libro è finito la danza dei draghi spero che Martin si sbrighi a scrivere il tredicesimo perché come vi ho detto sono in trepidante attesa cosa dire? qua vengono praticamente ripresi tutti i personaggi quindi non abbiamo più dei libri che riprendono soltanto Daenerys, Brienne, Cersei o altri libri che parlano di Jaime, Tyrion, Jon eccetera qua li abbiamo praticamente quasi tutti e conta in realtà 300 pagine perché poi per il resto inizia la nobile è casata eccetera e come sapete non corrisponde alla sesta stagione perché la sesta stagione della serie tv è basata su un canovaggio improvvisato diciamo di Martin che ha dato due o tre linee guida sul tredicesimo libro quindi non vedo l'ora di leggerlo nel momento in cui lo scriverà ho letto poi, sì ve l'ho detto, ho letto parecchio ho letto Don Quixote della Mancia di Cervantes allora cosa dire? questo libro è un qualcosa di meraviglioso io l'ho scaricato in ebook cosa dire? allora non credevo in realtà ero abbastanza intimorita nell'approcciarmi a leggere quel libro sia per il numero di pagine perché conta 1300 pagine sia perché credevo che fosse un vero e proprio mattonazzo classico in realtà è una meraviglia quel libro è veramente stupendo perché nonostante sia stato scritto nel 1606 la prima parte e poi nel 1615 la seconda devo dire che tuttora quel libro fa ridere è un libro appunto, un romanzo tragicomico rientra nei romanzi moderni occidentali e Cervantes devo dire che ha un umorismo allucinante cioè ancora oggi nel ventunismo secolo mi ritrovo a ridere ma proprio di gusto sto leggendo le avventure di Don Quixote ho voluto approfondire meglio l'argomento e devo dire che Cervantes è praticamente un genio nel senso che ho notato alcuni elementi della vita di Cervantes che si andavano a ricollegare alla vita di Don Quixote ma parliamo di chi è Don Quixote Don Quixote è un uomo che dopo aver letto tantissimi libri un po' come facciamo noi lettori si è talmente immerso nelle storie e ha talmente preferito la realtà e diciamo delle immaginarie fantasie scritte nei libri a quella vera che impazzisce impazzisce e decide di diventare cavaliere errante e vivere le avventure che egli leggeva nei vari testi in cui veniva ripreso diciamo l'amor cortese degli ideali cortesi dell'epoca quindi è carino perché la sua follia comunque ha una logica nel senso per diventare cavaliere ha bisogno di alcune armi quindi va a prendere la spada va a prendere la lancia va a prendere un morione che è l'elmo e la celata la celata se la fa addirittura di cartone quindi sono un po' delle armi rudimentali che si crea ha bisogno di un cavallo e quindi prende il suo ronzino chiamandolo ronzinante e paragonandolo al bucefalo di Alessandro Magno soprattutto per rispecchiare l'ideale cortese Don Quixote ha bisogno di un'amata e appunto per questo lui prende diciamo come ideale di amore Dulcinea del Toboso che in realtà è una donna che si chiama Aldonza Lorenzo che è sostanzialmente una contadina che vive nel paese a fianco e lui però decide che questa è una bellissima principessa e la chiamerà Dulcinea del Toboso lui stesso Don Quixote non si chiama Don Quixote lui si chiama Alonso Chiana che è appunto questo nobile decaduto che impazzisce e decide appunto di diventare Cavaliere Errante ci sono poi tutte le varie avventure che sono veramente molto belle e divertentissime avventure dove lui scambia magari una locanda per un castello e l'oste per un castellano e si fa investire Cavaliere ci sono degli altri momenti in cui magari scambia dei Benedettini per dei maghi che hanno fatto un incantesimo e quindi si butta a capofitto in queste avventure e ovviamente è molto bella anche la figura di Sancio Panza Sancio Panza appunto era il contadino di Alonso Chiana e quindi il nostro protagonista che diventa un po' il suo scudiero e che fa un po' da controbilanciamento controbilancia diciamo la follia di Don Quixote da una parte c'è Don Quixote e la sua follia e le sue diciamo avventure immaginarie che proietta nella realtà vedi il fatto che lui scambia dei mulini a vento per dei giganti e dall'altra parte appunto abbiamo Sancio Panza che fa un po' la parte razionale come se in realtà l'essere umano sia diviso nella parte reale nella parte razionale scusate nella parte irrazionale no? e la parte razionale è Don Quixote dell'essere umano la parte razionale è Sancio Panza diciamo che appunto a me è piaciuto veramente tanto perché nonostante diciamo il libro sia comico l'intento trovo che sia un intento nobile quello di Cervantes che non è solo quello di far ridere perché proprio la figura di Don Quixote cresce è una sorta di romanzo di formazione cresce e diventa diciamo più consapevole di se stesso più consapevole della propria situazione ed è bello come Cervantes utilizzi la follia non soltanto in negativo la follia viene utilizzata sia per iperbolizzare le avventure di Don Quixote e sia viene utilizzato come mezzo per diciamo spiegare che a volte è un veicolo diciamo per fuggire dalle delusioni della vita ed è la stessa cosa che ha provato Cervantes Cervantes si ha letto la sua vita ed è rimasto affascinato dal fatto che lui a 22 anni dopo aver diciamo studiato e scritto eccetera va in guerra partecipa alla battaglia di Lepanto dove appunto i cristiani vincono sui turchi peccato che mentre lui è sulla nave di ritorno a Napoli insieme a fratello Rodrigo vengono catturati da dei corsari arabi e rimarrà prigioniero d'Algeri per ben 5 anni lui di questa cosa ne patisce un sacco ovviamente e patisce anche il fatto che in realtà era stato incantato anche lui dalle geste che venivano narrate nei vari libri dei cavalieri, dei guerrieri e tutto mentre in realtà poi scopre che in realtà uccidere una persona non è così valoroso come è scritto nei libri che non è vero che esiste lealtà tra combattenti diciamo che vuole creare una sorta di disincanto nel lettore dell'epoca andando appunto a iperbolizzare gli ideali cortesi dell'epoca che vengono rappresentati molto bene da un Don Quixote goffo e quindi ridicolizzando la figura di Don Quixote e quindi cercando di creare una sorta di disincanto nella vicenda comunque come avrete ben capito mi è piaciuto tantissimo Don Quixote veramente mi sono fatta delle grosse grasse risate che non credevo poi ho letto anzi sto leggendo in corso di lettura Ama Melide allora ho scoperto perché io lo scopro sempre dopo che c'erano degli ebook gratis sul Kindle e Valeria Furlan mi pare comunque vi metto la foto è un ebook molto carino devo dire che mi sto trovando veramente bene a leggere appunto il libro di questa ragazza che sostanzialmente narra le vicende in contemporanea di Vanessa una ragazza che appunto vive nel nostro periodo nel ventunesimo secolo e che viene bullizzata anche qua è molto importante il tema del bullismo viene parecchio ripreso nel libro e dall'altra parte le vicende di Gabriel un ragazzo vissuto nel 1300 che appunto scopre la magia e quindi appunto si parla di strega eccetera e quindi mi sta piacendo veramente molto è scritto in modo semplice però coinvolgente per quanto riguarda gli all devo dire che per quanto riguarda appunto gli all sono stata contattata a due autori allora uno è Federico avevo già letto appunto la trilogia del codice della strega adesso mi sono scaricata mi devo leggere il quarto libro della saga che continua sostanzialmente e quindi ringrazio tantissimo Federico quindi ringrazio veramente tantissimo Federico spero che in questa settimana in cui andrò al mare di riuscire a leggere anche il suo libro e inoltre ho ricevuto anche due ebook di Bianca Cataldi che è un'altra autrice emergente ed è appunto i libri sono Riverside e Dollhouse sembrano due thriller quindi ho un fantasy e due thriller che mi sono stati gentilmente inviati dai due autori che ringrazio tantissimo e altri due libri che ho acquistato perché non ce l'ho fatta nel senso sono andata da Feltrinelli e ho fatto casino altri due libri che ho acquistato e che non vedo l'ora di leggere sono visto che Mamma Elide mi sta piacendo molto e non vedo l'ora poi di leggere Il codice della strega il quarto libro che parla di streghe quindi mi sto infognando sulle streghe bravo Federico che mi ha mandato il quarto non ce l'ho fatta e ho acquistato Antique Voci da Sale più forte di me questo era al 15% di sconto e quindi l'ho presa perché il mio ragazzo aveva la carta più di Feltrinelli e non vedo l'ora oltretutto è scritto da Adriana Mother che seguivo la serie di Salem da là mi sono una serie horror Salem vi consiglio di andarla a vedere se non l'avete ancora vista è una serie horror stupenda si sono fermate la seconda stagione cattivi 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 è una serie horror dove parla di Salem nel 1600 parla appunto di come questa colonia americana sia cresciuta in mano praticamente ai vittoriani e come appunto si sia trasportata traslata anche lì la Santa Inquisizione quindi il problema appunto delle streghe i roghi alle streghe la caccia alle streghe eccetera non vorrei è esistito veramente nella storia di Salem perché appunto mi sta piacendo tantissimo e quindi sto iniziando a informarmi tantissimo esisteva un reverendo Cotton Mother che appunto è ripreso sia come figura nel telefilm e anche qua che era un reverendo che si occupava di esorcismi e di caccia alle streghe e lei appunto è l'autrice il cognome scritto così e lei praticamente è la discendente di Cotton Mother quindi voi capite che quando io ho preso questo libro ho detto oh mio dio lo devo assolutamente leggere se non potete capire sono presenti anche le lettere di queste streghe condannate quindi oh mio dio non vedo l'ora di leggerlo poi ho acquistato Memoria di una Geisha e ho acquistato questo e non vedo l'ora di leggere poi anche il libro scritto dalla protagonista stessa che ha trovato delle incongruenze nel Memoria di una Geisha scritto da questo giornalista e quindi voglio leggere prima questo e poi dedicarmi alla lettura del vero testo scritto da lei scusate ma il cellulare oggi è un po' così poi poi sempre per streghe è praticamente in lingua e parla praticamente della storia di queste sei donne di sale ma accusate di stregoneria quindi io sono veramente entusiasta di iniziare questi libri quindi andrò praticamente in vacanza con 13.000 libri che non riuscirò forse neanche a finire ma non importa e niente questo video è diventato lunghissimo mi dispiace come sempre perdonatemi ci vediamo la prossima volta col prossimo video ciao